Lei ha un'idea di questo suo cognato, di dove sia? E se sia ancora vivo? Cosa immagina? Sicuro. Ci sono delle teorie, potrebbe essere anche in Arabia Saudita, non lo sa. Dicono di no, ma non si sa. Lei non può giurare. Lei non può avere un'idea, probabilmente. Nessun saudita vorrebbe vedere un proprio concittadino preso, quindi imprigionato e poi processato negli Stati Uniti. Lei non può giurare. Lei non può giurare.